Il voto del popolo, Renzi ha sempre detto che in caso di vittoria dei no si sarebbe dimesso totalmente dalla politica, questo l'ha detto lui personalizzando il referendum costituzionale. Dopodiché io dico che il voto popolare, 32 milioni di cittadini italiani che hanno deciso di partecipare, di contribuire alla vita democratica del paese e 20 milioni di cittadini che hanno detto no a una cattiva, pessima, dannosa e io dico anche pericolosa riforma costituzionale, si sono poi tramutati anche in un voto chiaramente politico. È stato un voto di bocciatura secca non solo di Renzi ma del governo e delle politiche del governo. Avere oggi un altro governo che è fotocopia di quello, vedremo poi come verrà formato ovviamente ma le prime intuizioni pare che sia esattamente la fotocopia del governo Renzi dove bisogna addirittura cercare un posto alla ministra Bosti che è l'altra grande sconfitta di questo referendum costituzionale credo che sia un tentativo subdolo di bypassare una volontà popolare che è chiara.